Cerchiamo di capire il ruolo dell'Italia dei Valori, soprattutto con il cambio che c'è stato all'interno del suo partito. Sì, innanzitutto il nostro partito è l'unico partito a essersi rinnovato profondamente, si è spersonalizzato e ha fatto in modo che ci sia una nuova fase. Abbiamo eletto il segretario nazionale, la segreteria, abbiamo eletto 1500 persone che al nostro interno, a livello regionale e provinciale, rilanciano il partito. Io sinceramente, il signore non so che idee abbia, ognuno è libero di pensare quello che crede, ma l'Italia dei Valori non solo ha detto in passato e noi come Italia dei Valori vogliamo rivendicare con orgoglio quello che è stato fatto, voglio ricordare a quel signore che se non ci fosse stata l'Italia dei Valori in Parlamento, tante schifezze sarebbero passate, aggiungo, se non ci fosse stata l'Italia dei Valori per le strade, oggi in Italia avremmo il nucleare, oggi in Italia se non ci fosse stata l'Italia dei Valori insieme ad altre associazioni, l'acqua non sarebbe pubblica, il legittimo impedimento, abbiamo raccolto un milione e duecentomila firme contro il Porcellum, magari questo signore era uno di quelli che si avvicinava prima ai nostri banchetti e ha anche firmato, non lo sappiamo, oppure un nuclearista convinto e quindi non apprezza le nostre battaglie. Oggi probabilmente i media non ci danno un grande spazio, ma il ruolo dell'Italia dei Valori non è quello di fare un partito, un partitino, aggiungo, non c'è un dirigente di partito retribuito, nel senso che il mio incarico di segretario è gratuito, così come quello di tutti i 1500 che stanno dando una mano per rilanciare, perché caro signore oggi il partito dell'Italia dei Valori ha molto più appassionati e molto meno interessati, interessati nel senso interessati a ottenere qualcosa di personale, le cito soltanto le ultime due battaglie che abbiamo fatto con forza e magari se ci dessero una mano non sarebbe male. Primo, abbiamo depositato alla Camera dei Deputati centomila firme che abbiamo raccolto per le strade, siamo l'unico partito che ancora oggi ci mette la faccia, scende in piazza con i gazebo e guarda in faccia i cittadini anche quando ti devono dire parolacce, sia chiaro, anche quando devono contestare, perché la politica, la democrazia è questa, e anche la capacità di essere, di ascoltare le proteste, le contestazioni e di confrontarsi. Volevo dire una cosa, perché volevo tornare su un tema importante, cioè i soldi confiscati alla mafia, perché stiamo parlando di milioni e milioni di euro che dovrebbero rientrare nelle tasche dei cittadini. È fattibile o no quindi iniziare da qualcosa di concreto? Perché poi i cittadini chiedono concretezza. Questo come il tema, ad esempio, del gioco d'azzardo. Certamente sì, ed era proprio quello, grazie per la domanda, era proprio quello che volevo dire a questo cittadino, sfidandolo a darci una mano, perché non è il nostro interesse fare un partitino, sia chiaro, l'Italia non ha bisogno di un altro partitino. Noi siamo rientrati nella coalizione centrosinistra e stiamo lavorando in tutta Italia, si vota domenica nel regionale in Sardegna, ma abbiamo fatto così in Basilicata, in Friuli, in Trentino, per una coalizione che possa veramente prendere impegni e cambiare le cose. Ma con il nostro modo di pensare, con le nostre idee, con le nostre battaglie. E gliene cito due, e chiedo a tutti quelli che ci ascoltano di darci una mano, di avvicinarsi ai nostri banchetti, ma non perché vogliamo mettere il cappello su qualcosa, ma perché vogliamo risolvere un problema. Uno, gioco d'azzardo, abbiamo depositato alla Camera dei Deputati centomila firme per dire no alle slot machine, no ai videopoker, che sono una tragedia del Paese, novecentomila persone malate di ludopatia, gente che si uccide, famiglie rovinate, tutto perché lo Stato deve fare cassa sulla pelle dei cittadini, ci dia una mano eliminarlo. E vedete, è strano, perché per una cosa così chiara dovrebbe essere il Parlamento a occuparsene, che ci sia un partito che è fuori dal Parlamento e che raccolga le firme, significa che il Parlamento non funziona. Seconda battaglia, e inizieremo la raccolta di firme la prossima settimana, vendiamo i beni confiscati alla mafia, c'è un patrimonio di 80 miliardi di euro, 80 miliardi, se voi immaginate solo l'IVA per aumentarla, ci voleva un miliardo e il governo non l'ha trovato, 80 miliardi di beni che sono confiscati ai mafiosi. Bene, noi riteniamo che dopo averli dati, se lo richiedono ai comuni, alle regioni o alle associazioni, per garantia di affinità sociale, se entro 90 giorni non vengono richiesti, devono essere venduti. Lo sapete, ci sono 1700 aziende là dentro, ieri i lavoratori di un'azienda confiscata a Grigoli, noto mafioso della provincia di Trapani, erano davanti alla prefettura, perché finita e arrivata la confisca, hanno perso il lavoro. Noi dobbiamo abbassare un messaggio, che confiscare alla mafia è conveniente per i cittadini, ma non perché si perde il lavoro, ma perché si lavora meglio, perché si lavora nella legalità. Ecco, queste sono le battaglie della vecchia e della nuova Italia dei Valori, io vorrei parlare sempre meno della vecchia e sempre più della nuova. No, no, no.